Ciao ragazzi, oggi volevo mostrarvi come creare un make up con una palette di ombretti di Smoky Eyes, che è questa palette, della linea Only You, e se lo avete notato oggi sto registrando provando a registrare con la videocamera perché ho visto su un sito chiamato Gemmina Makeup che vengono meglio i video, poi me l'hanno detto in tanti e quindi sto provando vabbè, allora, iniziamo il tutorial, allora come vedete in questa palette ci sono quattro ombretti, uno color carne, uno nero, uno marrone e uno bianco rosa, un misto e allora, iniziamo col prendere un pennellino, io utilizzo questo, e prendiamo il primo colore che è il rosa carne, e lo andiamo a utilizzare come base, mettendolo, espandendolo, ce la fa al pedro mumbia. Grazie a tutti, grazie a tutti. e questo è il risultato che dovremo ottenere, la stessa, la stessa cosa la facciamo nell'altro occhio. C'errò Grazie a tutti. Ok, ora andiamo a prendere con un altro pennellino che vi consiglio, il secondo colore che è questo nero numero 2. E con questo andiamo a fare una riga finissima sulla palpebra mobile. Quindi, aspettate, iniziando non proprio dall'interno ma da metà dell'occhio. Ok. Dopo prendiamo di nuovo il pennellino che abbiamo utilizzato prima. E prendiamo il numero 3, ovvero questo marrone. E lo andiamo a espandere sopra la base sulla palpebra mobile. E lo andiamo a prendere. Questo possiamo anche farlo un po' uscire dalla palpebra. E l'effetto che si atterrae sarà questo. la stessa cosa andiamo a farla con l'altro occhio infine prendiamo il quarto colore che è questo ed è questo rosa bianco e ne mettiamo pochissimo sopra al marrone e alla base che abbiamo dato la stessa cosa andiamo a farla con l'altro occhio prendiamo di nuovo il bianco e lo spaviamo nell'occhio sinistro c'è nell'occhio destro l'effetto di su terra sarà questo zoom forse se questo video vi è piaciuto mettete mi piace aumentate iscrivetevi al canale giù nell'info box inoltre vi lascio il mio instagram così se volete vedere delle foto perché magari a volte mi faccio acconciature make up e indosso capi nuovi beh spero ancora che il video vi sia piaciuto e alla prossima e vi mando un bacio a tutti ciao